Quanto costa fare la spesa in un supermercato del principato dell'Icestain? Ma soprattutto, cos'è l'Icestain? Siamo entrati in un supermercato copp di Vaduz, la capitale, e subito abbiamo notato dei prezzi molto alti rispetto all'Italia, in generale duplicati o addirittura triplicati. Michele adesso si sta per sentire male perché i suoi cereali preferiti costano quasi 7 euro, qui non potresti mai mangiarli. Poi abbiamo trovato alcuni prodotti tipici della zona, come queste uova colorate già cotte a 4,90 euro. 7,30 euro per una pizza surgelata tra l'altro con l'ananas, oh mio Dio, no! Oppure questa misteriosa poltiglia. Sono quelle schifezze da provare almeno una volta nella vita, ma 6,70 euro, no grazie. Prezzi dei cornetti leggermente superiori alla media, ma tutto sommato accessibili e Michele non ha saputo resistere. 1,45 euro ma è gigante. Poi abbiamo comprato una bottiglia d'acqua, due panini vuoti, sei salsicce sotto vuoto e una barretta di cioccolato. Totale della spesa 10 euro e 10 centesimi. Tanto troppo.